L'ho sempre immaginato così, il matrimonio. E tu, Sergio, puoi accogliere Andrea come tua sposa? No. No! Andrea! I sistemi qui, ci fai lo studio e la casa. Ma se vengono i suoi pazienti e la cercano, ma io che gli dico? Senta, il dottor Ferri purtroppo non c'è. Sentite, adesso basta, per favore. Salve, sto cercando il dottor Ferri. Il dottor Ferri... sono io. Stai scherzando? Ma io la voglio rivedere. Ho capito, ma così rischi una denuncia. Mi stavo per sposare. E lui mi ha molato davanti all'altare ed è scappato con un'altra. Sono depressa, mangio come un camionista quando mi guardo allo specchio vomito. Pensavo peggio, onestamente. Amore! Lo so, due anni che stiamo insieme. Sai che conviviamo? Ma perché non si sposamo? Adesso tu non sei più Lotti, adesso tu sei Sharon. Come faccio a vedere se Sharon è connessa? Psst, vanna. Intanto chiudi la finestra. Sì. Fa corrente, io c'ho pure mar di gula. Pronto! Attacco di panico. Vai su Google e cerca attacchi di panico. Dove devo andare? Affanculo, levati. La forma di psicoterapia. Che la ricerca scientifica ha trovato a essere efficace. Che la ricerca scientifica ha trovato a essere efficace, Andrea. Chiudi pop-up. Chiudi pop-up. Ma che cazzo? Quale sarebbe questa tipologia di uomini di cui si innamora? Mi innamoro sempre degli strunzi. Perfetto. Sushi o sashimi? Che aiutano? Che a tutti. Andrea, che bambino. Perfetto? E' un'imprimabile? Ci vado così Sobria